Sono state ancora una volta le impronte digitali lasciate sulla scena del crimine ad incastrare un ladro seriale di furti in abitazione. A finire nei guai un ventenne nisseno denunciato è stato di libertà dalla squadra mobile ritenuto responsabile del furto aggravato messo a segno nel mese di maggio dello scorso anno in un'abitazione in via Magenta, quanto dopo aver distrutto il vetro di un balcone e aver rovistato in tutte le stanze si è impossessato di preziosi gioielli. Ed è proprio durante il sopralluogo della polizia scientifica che sono state rinvenute delle impronte digitali che dopo numerose comparazioni sono state così associate al giovane. Numerosi infatti i precedenti penali per furti e altri reati contro il patrimonio e la persona che il giovane al momento detenuto al malaspina per essersi reso responsabile di evasione e rapina hanno aver a suo carico, molti dei quali commessi mentre era ancora minorenne. Un vero e proprio specialista dei furti in abitazione alle quali accedeva attraverso finestre e balconi arrampicandosi dalle grondaie e dalle tubazioni del gas come accertato dagli uomini dell'antirapina. Proseguono intanto le indagini per accertare il coinvolgimento di eventuali complici e scoprire l'identità dei ricettatori che hanno piazzato la refurtiva.